Se vuoi un account modato di GTA V per PS4 con i bilioni e tutto sbloccato, passa dalla pagina Facebook, link in descrizione. Ok, abbiamo discusso in un video precedente di come GTA potrebbe non ricevere più DLC in futuro perché ormai è finito in un certo senso. Ma come ho detto in quel video, credo che quest'ultima affermazione non la possiamo effettivamente considerare perché Rockstar continua a ricevere un sacco di soldi da GTA Online. Quindi non gli converrebbe abbandonare del tutto GTA, bensì continuare a fare dei DLC anche seppur piccoli oppure un singolo DLC grande. Quindi vi chiedo qui sotto nei commenti di rispondere alla domanda. Preferireste un DLC grande, gigantesco, uno all'anno che contiene tante cose, missioni, nuove attrezzature, nuove armi, nuove modalità di fare missioni? Oppure vorreste tanti piccoli DLC come ad esempio quello di Halloween e quello di Independence Day e quello di Natale eccetera eccetera? Quindi rispondete qui sotto nei commenti a questa domanda così da fare il punto della situazione e da vedere che cosa la gente preferisce. Onestamente preferirei un unico grande DLC che però te lo porti avanti per un bel po' di tempo, nuove modalità, nuove emissioni e quant'altro. Piuttosto che dei classici DLC di Halloween o Natale, diciamo quello di Halloween, potrebbe uscire da qui a poco. Infatti secondo me Rockstar potrebbe far uscire una sorta di DLC di Halloween in questo periodo, come più o meno ha sempre fatto. E poi un altro di Natale in futuro. Ora perché dico che Rockstar potrebbe far uscire qualche contenuto ad Halloween giorno 31 ottobre oppure prima? Beh perché effettivamente Rockstar è intenzionata a far uscire qualche contenuto però non su GTA o meglio non è stato ancora confermato nulla però credo potrà uscire qualche cosa. Ma su RDR infatti se noi accediamo a GTA Online dal giorno 10 ottobre al giorno 12 dicembre ci verrà regalata una maschera su RDR. Non capisco il nesso e il collegamento tra i due giochi però ok va bene comunque. Questa maschera è anche particolare ed è interessante e carina quindi se avete RDR potete sbloccarla. Ma a questo punto mi chiedo ma Rockstar farà uscire qualche contenuto anche per GTA Online? Anche perché comunque non è che si tratta di chissà che contenuto su RDR. C'è una semplice maschera diciamo solo le persone più affezionate ci fanno caso. Magari chi ci gioca semplicemente per giocarci non gliene frega più di tanto. Beh a parer mio Rockstar potrebbe far uscire comunque qualche cosa ad Halloween e con qualche cosa intendo qualche possibile nuova arma, qualche veicolo ma soprattutto qualche modalità. Io sono sicuro che Rockstar d'ora in poi se la giocherà sulle modalità farà uscire diverse modalità interessanti oppure no decideremo noi in futuro cosa sarà interessante e cosa no e qualche magari nuova missione. Il fatto che Rockstar continui ad aggiornare lo Steam Database quello che insomma aggiorna prima di ogni nuovo DLC o di ogni nuovo contenuto beh mi fa pensare che qualche cosa sta aggiungendo su GTA. Quindi Rockstar probabilmente farà uscire qualche cosa interessante ad Halloween ma non intendo un nuovo DLC perché comunque lo ha già fatto in passato. Ha fatto uscire delle cose di DLC di Halloween se non erro però non era una storia e non erano attività interessanti belle. Erano semplicemente dei veicoli e delle cose così di maschere e quant'altro. Però potrebbe continuare cogliendo l'occasione appunto di un altro Halloween che è passato su GTA ad aggiungere nuovi contenuti per poi fare un DLC vero e proprio verso Natale. Che è il mese in cui diciamo si collegano più giocatori su GTA perché c'è più tempo, ci sono le vacanze. Tra l'altro Tez Fan 2 che sarebbe sempre quel noto insider e quant'altro pensa che GTA Online sia finito e che ci sarà un prossimo grande DLC di GTA Online e che insomma poi Rockstar finirà di fare DLC. Beh io credo che potrà essere così in un certo senso ma anche no. Dipende tutto da Rockstar e di come vuole agire. Io penso che Rockstar ha un sacco di cose che può ancora fare ma tante 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 quindi di temi da affrontare ne ha tantissimi. Ma il fatto che le console possano non reggere più nuovi contenuti insomma nuove cose beh questa è la cosa che mi preoccupa di più. Non tanto il fatto che Rockstar smetta di pubblicare DLC perché vuole smettere ma tanto il fatto che le console che abbiamo tuttora non ce lo permettono più. Perché effettivamente GTA Online è diventato piuttosto pesantuccio. Voi avete dei calli di FPS sulla vostra console io ne sono sicuro. Li ho sulla mia che è la PS4 Pro che proprio c'è ogni tanto si rincoglionisce e non capisce più niente. Ed è proprio per questo che Rockstar potrebbe fare dei contenuti, dei DLC piccolini così da non andare a sforzare più di tanto le console. Ad esempio voi entrate nel casino. Nel casino in sessione sono inviti non essendoci giocatori non laggano. Ma se siete in una sessione pubblica e provate ad entrare nel casino dove ci sono anche più di 10, 15, 20 giocatori all'interno di quella struttura lì comincia a laggare. A meno questo era l'inizio poi è andato un po' diminuendo perché Rockstar ha fatto qualche patch. Però è giusto per farvi capire che effettivamente le console non ce la fanno più di tanto. Ed è proprio per questo motivo che Rockstar all'inizio di GTA Online, quando c'era anche PS3 e Xbox 360, faceva uscire dei DLC piuttosto semplici. Dove aggiungeva delle auto, dei veicoli, delle cose piuttosto basilari ma che non andavano a sforzare troppo la potenza delle nostre console. Come sta accadendo in un certo senso ora come ora? O meglio, Rockstar aggiunge determinate cose, aggiunge cose come l'Arena War o il casino, insomma strutture interne ed esterne che effettivamente hanno un impatto sulla nostra console. E dopodiché in questi vari DLC ci aggiunge semplicemente delle nuove auto, nuovi veicoli. Ecco un'altra domanda vi pongo, preferite veicoli su GTA Online come se non ce ne fossero già abbastanza, cioè ce ne sono un macello, ci sono tipo 500 veicoli. Infatti lo stesso Ted's Fan 2 riflette su questo argomento e dice che ci sono un sacco ma tantissimi veicoli inutilizzati che Rockstar ha aggiunto sulla nostra console. Tanti gigabyte a questo punto anche dentro le nostre console che però i giocatori non utilizzano. Perché effettivamente come fai ad utilizzare tutti i veicoli di GTA? Oppure preferireste delle missioni nuove, delle attività nuove, delle DLC basate esclusivamente su attività e quant'altro? Io preferirei quest'ultimi perché di veicoli ne abbiamo abbastanza. Magari potrebbe continuare ad aggiungere veicoli militari con il quale appunto fare determinate missioni, aggiungere veicoli super, sportivi, SUV e quant'altro. A meno che non siano fighi, davvero fighi, 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 potrebbe fare a meno. Ecco, non vorrei tanto un nuovo veicolo super ma vorrei tanto dei nuovi veicoli lowrider. Proprio perché sono veicoli fighi e veicoli unici. Quindi questa era la mia domanda. Preferite tanti veicoli e meno missioni oppure meno veicoli e più missioni? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E vi faccio un'altra domanda. Secondo voi ad Halloween uscirà qualche DLC o qualche contenuto in generale? Potrei non escludere il fatto che Rockstar non faccia niente o semplicemente sblocca l'acquisto di determinati contenuti che sono già presenti su GTA solo appunto per il periodo di Halloween. Comunque questo era il video. Io vi invito a vedere il video precedente che a quanto pare non è andato in feed o meglio YouTube non ha inviato le notifiche. Non capisco perché in cui andremo a giocare nella vita reale online di GTA. Quindi giocheremo, ci divertiremo un sacco e voglio sapere anche da parte vostra cosa fare nei prossimi episodi. Quindi ogni domenica ci sarà un video su questa cosa qui. E niente andatelo a vedere mi raccomando recuperatelo. E detto questo ragazzi iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Lasciate un bellissimo like se non l'aveste già fatto. E noi ci vediamo al prossimo video. E ciao ciao!